Se è bloccato di permesso di casura, più di 2.000 persone, sono premesso non pronto. Come allora? Ha fatto premesso di nuovo qua, premesso non pronto, devo andare via. Posso venire a dormire qua, cercare un po' di soldi, posso comprare e mangiare. Premesso sono bloccato, non c'è lavoro, non c'è casa, devo andare via oggi. Venire a cacciare tenda, andare a fare quella tenda di blu, fare dormire là. Chi è dormire là? Senza luce, senza acqua caro devi fare lava. Non ce l'hai bagno qua, dov'è dormire là qua? Quando sei arrivato qui a Rosarno? Adesso Rosarno, io sono qui tre anni o qualcosa. Che cosa chiedi? Perché protesti contro? Perché la prefettura ha organizzato lo sgombero, ma ha anche trovato le tende, le case per voi, dello Sprar. Sì, Sprar, quando loro direi Sprar, quello Sprar che io non voglio, perché io sono in Italia adesso sei mesi. Adesso io non ho documento, solo sei mesi io sono. Quello sei mesi che scaduto adesso andare magari nove mesi, dieci mesi, non posso cambiare. Loro deve poi, viene oggi, deve scrivere nove, andare a campo ancora. Come deve andare a campo ancora? Sei paese, sei anni ancora e ritornare a campo. Come deve fare? Eh, sei mesi, sei mesi qua. Manca uno anno adesso, è scaduto, non posso cambiare. Dove tu andare loro dito, no, non cambia. Allora come deve fare? È scaduto, è scaduto, sì, è scaduto, sì, c'è qua. Sempre io gira per io, vuoi cambiare, non posso cambiare. Hai visto? Ok, hai visto? Vada fino al 20 maggio 2018. Eh, finito, adesso non posso cambiare. Non posso cambiare. Queste immagini girate dal nostro operatore Rampace sono uniche, non le rivedrete. Raccontano di una città fantasma, anzi, di una città che ormai è un cumulo di macerie, di laminati, di eternit, di immondizia. Qui, a San Ferdinando, piana di Gioia Tauro, vivevano fino a poche ore fa duemila persone. Immigrati. Qui il popolo, disfruttati di migranti, di disperati, ha vissuto per una decina d'anni in condizioni drammatiche, sfruttati anche da mafie senza scrupoli, dall'andrangheta come dalla mafia nigeriana. in condizioni drammatiche, da mafie senza scrupoli, da mafie senza scrupoli, da mafie senza scrupoli, da mafie senza scrupoli. In condizioni drammatiche, da mafie senza scrupoli, da mafie senza scrupoli, da mafie senza scrupoli, da mafie senza scrupoli. Ho visto quante persone dormono qua? Qua? Troppo caldo, quando freddo, freddo, troppo. Troppo caldo. Troppo caldo su dentro, ragazzi. Ok, andiamo avanti, tu vedi là. Come fai col caldo qua? Eh, come fare? Niente. Guarda, quando c'è caldo, troppo caldo, quando freddo, freddo, guarda. Questa è tutta nuova, per sottotitoli. Tu ti comprare, rosarano, quando tu andare rosarano, rosarano, demandare, tu non ancora andare giataro. Guarda, quale uno deve vendere 6,50 euro. Questa è uno, 6,50 euro per noi. Guarda qua. Guarda. Hai visto? Questa è la luce di noi. Hai visto? Hai visto? Quello fuoco, tutti, tende a colpa di questo. Perché, se tu non c'è corrente a casa, perché devi fare questo? La sera, quando tu andare via, devi fare bruciare. Colpa di questo, devi fare bruciare la tenda, capito? L'unico modo era la luce. Eh, perché non c'è luce. Se tu non metti cosa a casa, come vedi? Non vedi niente. Allora, guarda sopra. Questo è tutto il legno nuovo. Guarda. Questo. Questo uno deve pagare 4,50 euro. Questo uno. Ha visto? Quello è tutto nuovo, vedi? Tutto nuovo. Guarda quella polla. Guarda quella polla. In Spagna qua più di 7,7 mila euro. No, ma uno giorno oggi loro... Questo. Quella. Due dici euro. Due dici euro. Questo uno. Dove. Quella grande. Due dici euro. Hai capito? Oggi loro devono venire a cattare tutti. Senza niente. Perché noi non c'è posto bene. Quale cimento di terra qua? Prende più di 30 sacco, una 25 sacco. Fare cimento con la prezza. Perché anche dietro di tutti. E venire a cattare a casa. Loro non comprare la mera è dato a me. A me comprare i miei soldi. Ora sono perso. E forse di noi. Ora quello che tu hai speso non ti torna. E non dà niente. Non dà niente. Non dà niente. Non prendi più niente. Niente, niente. Hai perso, diciamo, i soldi del lavoro. Ok, della mia. Casa mia, avanti. Ok. Io spegno qua 6.500 euro. Aspetta, dimmi quanto è speso qua? 6.500 euro io spegno qua. Perché italiani non dà documenti. Noi vogliamo. Quando noi troviamo un po' soldi, noi deviamo andare in noi paese. Non è sempre vivere in Italia così, senza niente. Quando noi mettere questa casa, trovare un po' soldi, deviamo andare in noi paese. Hai capito? Ma noi sempre noi abitiamo in Italia come l'amano. Hai capito? Tutti la mera, noi comprare. Perché prima sempre, la plastica è sempre foco, foco, foco. Questo. Prima che noi fare questo per casa. Adesso troppo foco, tutti la serra devono comprare la mia raffaile. Hai capito? Adesso, l'italiano cacciare questo tutto. Non dare noi anche casa, loro devono portare ancora a campo. Quella soldi che io spegno qua 6.500 euro. Non dare noi, non dare noi, 500 euro, sempre. Non, le martellino, tutti i casa dentro, le martellino, tutti. E lavorare la campagna, 25 euro, e la sare, fa venire 7.000 euro, farò giustare casa. Oggi loro devono cacciare casa. Perché se noi giocare, devono morire, freddo. Allora, non portare per la casa, quella tenda blu, senza lucia, e bagno, acqua caro non c'è. prima tutti così. Ma qua c'è sempre fuoco, 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 fuoco. Adesso la gente deve lasciare, vuoi fare la mera. Perché se tu fai la mera, la mera è meglio di questo un po'. Perché questo, anche tu mettere un po' fuoco, adesso tutti devono bruciare. Qua la mera non facile per prendere fuoco. Capito? E prima era tutto di plastica? Plastica, così. Avviso? C'è un po'... il suo ruolo. Oh! Questa è una guerra, perché ha fatto un po' fuoco. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.it 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 perché anche noi dobbiamo fare un po' di questo. Noi tutti dobbiamo pagare solo un po', un po', e fare qui, per la gente può fare più gara.